Buon te lì, buon te lì, buon te lì. Buon te lì, buon te lì, buon te lì, buon te lì. Buon te lì, buon te lì, buon te lì. Buon te lì, buon te lì, buon te lì. Allora, siamo in caserma e c'è l'appello e il comandante comincia a chiamare tutti quanti per cognome. Soldato Amoruso! Presente! Soldato Amoruso! Presente! Soldato Filippini! Presente! Soldato Finocchietti! Presente! Soldato Finocchietti! Presente! Soldato Finocchietti! Quanta volta le devo dire che quando faccio l'appello deve gridare! Soldato Finocchietti! Soldato Finocchietti! Siamo a Bitonto, c'è un... no, non siamo a Bitonto, c'è un Bitontino che va in Francia, ricevete a Parigi, e lì viene portato a fare un capitolo, prendono un portone e fare un bisogno. In un portone, in un portone, in un portone, in un portone, fare un capitolo, come si può dire, a fare la... 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 il bisogno! Ed entra in un portone, mentre sta facendo il suo bisogno, entra un signore francese e vede la scena. E lli vede la most continued! Che'e pas possibile, che'u pas possibile, par bleu, par bleu! E ooooh! Where have no? Come there, Pierre, par bleu! Man, Marlon! Due dinosauli, uno dice all'altro, cos'è che da un po' di tempo penso sembra la morte? Due dinosauli, uno dice all'altro, sai che da un po' di tempo penso spesso alla morte? E l'altro risponde, oh voglio, non ti fossilizzare. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Mi vede una bella signorina, si avvicina. Signorina, lei crede all'amore a prima vista o mi devo fare la seconda passata? Policlinico di padre, del palco maternità, la mamma vede il bebè, dottore, ma lei ha visto mio figlio? E allora mi spieghi come mai, io sono bionda, mio marito è biondo, i bambini sono biondi e questo bambino ha i capelli rossi. E sì signora, un attimo, a tutto c'è una spiegazione, vediamo un po', mi dica lei quante volte fa l'amore con suo marito? È una volta all'anno, dottore. Una volta all'anno? E sì, e allora signora non si preoccupi, è la ruggine! Un piccolo serpentello alla mamma. Mamma, ma noi siamo melenosi? E la mamma, sì, ma siamo melenosi, melenosi? Sì, ma siamo melenosi, melenosi, melenosi? Sì, ma noi siamo melenosissimi! Sì, ma perché me lo chiedi sempre? Perché piangi? Perché mi sono appena posto la lingua! Oh, scusate, da un attimo, mancano le SS, dovevo fare il gabinetto piccolo, dovevo fare il gabinetto piccolo! Cenzio, vado ad eseguire non una barzelletta ma un momento molto tragico, siamo all'ultimo piano di un enorme grattaceno, un signore si precipita su e poi si lancia giù, si schianta il suolo, gli si avvicina un signore brave, non so se mi sei già piegato, è un metodo scenico, si schianta il suolo, arriva un signore e dice, che è successo? Che è successo? Oh, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora! Oh, c'è l'ora, c'è l'ora, c'è l'ora! Oh, c'è l'ora! Guardate l'app, guardate la caccia di Uscio de Santis! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.